Un'iniziativa per favorire il reinserimento economico e sociale di tutti coloro che hanno bisogno di ripartire in ambito lavorativo. Presentato nell'aula magna della Casa del Clero di Bari, il progetto di microcredito imprenditoriale dal titolo Piccoli Investimenti Grande Futuro. Il microcredito è un microfinanziamento che si rivolge a soggetti in difficoltà socio-economica che abbiano un'idea imprenditoriale. Quindi è necessaria comunque un'idea imprenditoriale da finanziare. Queste iniziative sono originate da soggetti che vengono considerati spesso dal sistema bancario tradizionale come non bancabili. Quindi l'impatto sociale del microcredito è evidente. Le nostre banche cooperative sono particolarmente sensibili a questi appelli. Riteniamo quanto mai opportuno sviluppare anche in questa sede, in collaborazione con la Curia, la possibilità di sostenere quelle start-up che sono appunto meritevoli di essere seguite. Una speranza per chi è in difficoltà economica, grazie al budget messo a disposizione dall'Arcidiocesi di Bari-Bitonto e da Federcasse BCC Credito Cooperativo, come sottolineato da Monsignor Giuseppe Satriano. Il credito cooperativo e la diocesi si sono messi insieme con lo stanziamento di un fondo di garanzia che possa essere elargito lì dove appunto ci sono le condizioni di opportunità e di valore che garantiscano il successo dell'iniziativa.